Sono un mostro fuori di testa! Tepistelli Sensibili è la miglior band di tutti i tempi! Di tutti i tempi! E il leader della band Dax è il ragazzo più cattivo che il mondo abbia mai visto! Non accetta sciocchezze da nessuno! Tranne da chi decide lui! E il loro manager, Kevon? A occhio per l'organizzazione, continuerà a far crescere i loro profili anche quando diventeranno obsoleti! La canzone era Voglio ascoltare i tuoi problemi, ragazza, dei Tepistelli Sensibili! Sì! Ora è il momento che stavate aspettando! L'occasione di vincere i biglietti per il loro concerto di stasera! Pronti con i telefoni! Vincerà l'ascoltatore che risponderà a questa domanda! Se Jens, il cantante solista della band, potesse avere qualsiasi animale domestico, quale vorrebbe? Pronto? Come ti chiami? Io sono Dolly, dal centro di Townsville! Jens vorrebbe un Wallabia perché è dolce ma anche forte! Proprio come i Tepistelli Sensibili! Ben detto, ragazza! Congratulazioni, Dolly! Perché tu e un ospite a tua scelta vedrete i Tepistelli Sensibili stasera! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Vieni, hai vinto! Non riesco a credere di aver vinto! Devi solo decidere chi portare con te! Sì, perché puoi portare solo una di noi! Ah, già! Perché sono solo due biglietti!